Nudità paradisiaca. Ho letto che gli Adamiti erano una setta giudeo-cristiana del secondo secolo, forse derivati dagli gnostici basilidiani. Basilide era uno gnostico attivo ad Alessandria d'Egitto nel secondo secolo e autore di un'imponente opera esegetica sui Vangeli. Gli Adamiti ambivano ritrovare l'innocenza primitiva seguendo regole di castità e abolendo le vesti e rifiutando i vincoli matrimoniali. I loro riti erano legati al mito della nudità paradisiaca. Genesi secondo venticinque. Perché? Commento. Perché molti uomini che pure hanno una forte fede non sanno che il rito definitivo è quello che si celebra sull'altare del proprio intimo.